Musica Allora Abbiamo finito Come ti sembra? Molto grande Come ti ho detto io Anthony Prova a suicidarti con la scala? No no aspetta aspetta Allora Credo che sto video qua viene da due parti Credo Credo proprio di sì Oh mio dio Siete pazzi Come ti senti aver fatto questo?